Ero convinta che non ci sarei mai tornata. Che c'è? Non ami questa città? Non è la città. È quella casa. Solo io sono riuscita a scappare. Ho già un lavoro, sì. Davvero, cosa fai? Pulisco piscine. Che cosa fai? Piscine. Non le pulisco. Ma che se arriva il buio, tu continua, non ti fermare, ok? Sì. Sì. E come si fa? D'accordo. Cos'è il buio? Lavoro per il corpo degli ingegneri dell'esercito. Voglio che scriva che sto bene, così posso ripartire. Vuoi tornare nel posto in cui sei saltata in aria? Cos'è successo? Ho fatto un incidente ad auto sul ponte Cosway. Sto prendendo un mucchio di farmaci. Che tipo di farmaci? Di quelli che evitano che ti spari un colpo in testa. Ok. Può tornare operativa? Sì. Dovrebbe tornare operativa. È una domanda diversa. Com'è il mondo delle piscine? Spietato. Davvero? No. 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 ��이 Grazie a tutti